Musica 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 No, no, no. E' come come sanno, tutto bene? Si, andiamo, allora si chiamo. Questo è il 3 minuti. Ok, bene. Perciò tutto bene, tutto bene? Sì, ok. In India si chiede? Sì, ho fatto, la prima. No, non ho fatto bene, non ho fatto bene. Ok, bene, bene. Perciò, bene, bene. Mi prende il mio telefone, per vedere. Non lo faccio? insieme no in no, hai il i fond? hai i che il nomma è il nome? ah non. non sei caperci non sei caperci non sei caperci ho detto adesso io ho detto che voci ho detto come ok ok io ho detto quando ho senti in India vi andi cazano 10 minuti intanto Sì, siamo arrivati a tutti i nostri amici. Per cui I amato in un po' di andare a venire dalla palestra della mattina di tutta non sopravvano. Io ho insegnato di tanti, non sopravvano di stuola. Io ho insegnato alla mia moglie. Però io ero nella mia moglie, le doistole si stuperemo. ... ... ... Ma ... ... mi sono lavorato e ho messo i sono lancato quando ci sono tutti i giorni mi conosci quando ci sono il caguardino Tu sei cagli che ha tu sei cagli che ha chagli che ha i due due che era da giù i due due no no ma no 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 Oh no non non , to partner no would no, 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 no No, non, ci sono le obiettive risultato. No, non ci sono semplici. Io, non ci sono soliti una scuola. Ha, no. Come per io, e voi quando voglie. C'è lungo io. Mi avevo le bei mamani di sua spesa. Ok, ok, allora oraaky, per lui non ti pare? Non. Grazie per la visione!